sì abbiamo pagato l'assenza di parecchie persone non l'assenza fisica ma l'assenza proprio mentale di parecchi dei nostri giocatori che evidentemente hanno sentito troppo questa partita sicuramente è stata colpa anche mia nella scelta di alcuni giocatori che nel campo non hanno dato quello che ci aspettavamo per quanto riguarda la partita noi abbiamo cercato di fare la nostra solita partita di giocare a calcio onestamente la fortitudine gioca poco a calcio questo è vero gioca di cosa bene questa categoria molte volte si vince anche così giocando paglia lunga perdendo tempo dal primo minuto hanno vinto loro bravi loro pazienza ma credi che sia un problema del campionato credi che alla fine del campionato ancora è lungo ci sono altre due partite regionale di ritorno penso che dipenda da noi ancora l'estito del campionato sono loro adesso sono due punti avanti hanno una partita in meno se vincono vanno a 5 però non è detto che vincano sono già al primo posto siamo in corsa e io sono ancora convinto che noi siamo la squadra più forte puoi essere molto sincero complimenti alla squadra alla squadra mia però permettetemi di dare anche complimenti all'altra squadra a tutte le persone arrivano qui non la solita frase una bella giornata di sport è stata proprio una giornata di sport dove ma alla fine ecco chi segnava che si portava la partita a casa questo